Ciao, ciao Ale, ciao, 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 salutami i bambini, tutti quelli che hai, anche quelli non riconosciuti, devi stare unito mentre salti Frozen, non aprire le gambe. Cercate l'impatto col palmo della mano e non con le dita, che tu non ci arrivi sono fatti i tuoi, però ci devi arrivare, vediamo di perdere un po' di pancia che la carota di bambini sta molto stretta, tra una XXL. Dai che forse abbiamo recuperato la Ricci. No ragazzi, il prepuzio è direzionato nel campo opposto, non vuoi vedere gente che volta il penne nel proprio campo. Buona Ricci, ok Frosio? No Frosio, le gambe, la coordinazione motoria. Ok Cartapani, stai composto quando sei in volo. Ma se chiudo le dita è sbagliato. Si. Non sovrapporre le mani a Ricci, non sovrapporre le mani a Ricci. i pollici, i pollici almeno un po' distanziati. Ok. No Frosio, che è quella roba? Cartapani di varica le dita sono chiuse. Ok. Questo è il secondo allenamento del 2020 di Ricci. Cambio. Cambiate il giocatore che lancia e il giocatore che è mura, che stasera si salta un poco. Numeroggi al campo. Sarà anche la strada. Si. Si è lasciato dal basso. No 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 no, questo è il pallone. Probabilmente devi trovarlo tu, non devi aspettare che lui salta, lo devi trovare tu. C'ho le mani dietro la testa Paolo C'ho le mani dietro la testa Paolo, ti entrano dai lati Stai dritto di bacino mentre carichi e aspetti in posizione d'attesa Guarda col bacino a Ricci Devi trovare te Bersi, non devi trovare lui te Mazzone devi rimanere però più di 0 secondi in aria C'ho le gambe un po' troppo vicine le burbe Più che altro c'hai le punte dei piedi che non guardano il tuo avversario ma sono così Quindi fai un sacco di fatica e salti la metà Tieni le dritte e cerca di caricare dietro di sedere No, non con le ginocchia che vanno in avanti Indietro di sedere, ti sembra di saltare di meno ma in realtà stai più tempo in aria Vai Sparisce sempre sì Arricci devi trovare Bersi, non il contrario Dai 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 Buono Mazzone, è quello molto bello Fabio salta indietro di culo e vai in alto Cerca di non unire le ginocchia burbe Quando carichi si tocca le ginocchia praticamente Ok Noi ti vorremmo vedere saltare ancora dopo i 30 anni Stop acqua Rosi non devi voltare le spalle, le spalle guardano il tuo avversario così come il bacino Grazie a tutti 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 Grazie a tutti